Il nostro prodotto rivoluzionerà il mondo dell'informatica. Avete presente il computer e il proiettore? Bene, noi li abbiamo messi assieme. Ciò significa che risparmiamo tempo, fatica e spazio. Migliorando anche la performance tecnologica. E chi pensate che conferrà il vostro prodotto? Tutti coloro che vogliono trasformare una semplice stanza in una sala cinematografica. Ah, fantastico! Allora addio alla televisione. Veramente smart, lo venderemo a tutti.